e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e oggi vedremo come sconfiggere il veggente se non sapete chi è cos'è attenzione agli spoiler è il boss finale della serie di missioni serio misterio di ava presenti con il dlc 6 director's cut non vi ho mostrato il percorso in questo video perché essendo dlc estremamente nuovo ed essendo questa serie di missioni una delle migliori che io abbia mai fatto dell'intera serie di borderlands ho preferito lasciarvi la sorpresa diciamo così quindi sappiate che questo boss si troverà ovviamente alla fine della quarta e ultima missione nella quarta e ultima mappa il come arrivarci ve lo voglio lasciare indovinare a voi comunque in futuro quando farò la mia guida missioni anche per queste non vi preoccupate le coprirò per intero sul come dove quando vanno fatte detto ciò andiamo quindi a vedere questo boss noterete prima che partiamo che ho disattivato la modalità caos perché perché non so se è voluto o se è un bug al momento il combattimento contro questo boss è molto più difficile che contro il raid boss e no non sto scherzando ha più danni del raid boss avete meno possibilità di tirarvi su e ha circa il doppio della vita non lo so molto strano comunque questo è quindi andiamo a recarci sotto vediamo un attimo quali sono i suoi pattern e le sue momenti di immunità e poi combatteremo quindi questa è l'arena spettacolare devo dire e qua sotto c'è il boss boss che come vedete ha tre barre scudo armatura e scudo di nuovo ha vari pattern con vari tipi di attacchi a cui dovrete stare attenti il primo più semplice è questo qua con i laser che devo stare attento a schivare al momento perché non ho nemici per potermi tirare su il secondo attacco e uno di quelli più fastidiosi è questa attivazione di cubi che bloccherà parte dell'arena e ucciderà tutti quelli all'interno quando andranno ad esplodere o richiudersi così perfetto inoltre quando lo danneggerete troppo inizierà a caricarvi letteralmente come un toro e butta giù all'istante quando lo fa non ho capito se perché il danno è troppo alto se è voluto che faccia così però letteralmente uccide all'istante oltre a questo vediamo quindi le fasi di immunità vedrete anche che quando si carica con questi cubi lui va a curare il suo scudo quindi state attenti anche questo andiamo a fargli un attimo danno potrei avere un pochino esagerato ma comunque gli abbiamo levato lo scudo dopo aver fatto questo creerà questa zona di nebbia e vi darà il debuff che c'è quando toccate l'acqua all'interno di questa mappa e farà spawnare molti revenant che vi salteranno addosso il veggente è comunque presente quindi non pensate di magari pensare soltanto ai piccoli bomb perché il veggente sarà sempre qui andiamo ora a eliminare di nuovo il suo scudo vedete che può diventare anche invisibile oltre ad avere questo effetto nebbia andiamo a danneggiarlo un pochino di più per levargli l'armatura ultima scarica perfetto gli ho levato l'armatura adesso creerà di nuovo l'attacco coi cubi ma questa volta occuperà quattro cubi invece che due quindi praticamente due terzi dell'arena saranno bloccati e vi danneggeranno in più ha questo nuovo tipo di attacco che sono praticamente dei razzi a ricerca e inizieranno a spawnare altri nemici oltre i revenant tra cui gli spettri posseduti quella che avete appena visto era quella carica che vi dicevo che per fortuna ha colpito uno dei nemici e adesso che ha pochissima vita i cubi inizieranno anche a fare dei laser elementali continui insomma sempre peggio questa era la carica vedete che mi insegue letteralmente e adesso fa di nuovo la nebbia perché ha ormai quasi morto ora vediamo ancora meno di prima non vedo letteralmente neanche la mini mappa quindi direi di andargli a dare il colpo di grazia ripeto siamo comunque a mai in zero con una build miam 10 miam 11 e non lo one shotto quindi adesso dovrebbe essere morto di idioti perfetto e lascerà il suo drop in questo caso beh l'arma che vedremo nel prossimo video quindi per questa guida è tutto ovviamente troverete come ogni volta qua sotto in descrizione i link a tutte le mie guida le armi che farò dopo questo video in modo che possiate andare a vedere quali sono quelle migliori a parte questo questo boss non c'è altro la prima volta che lo sconfiggerete appariranno delle casse in queste posizioni e quella cassa invece ci sarà ogni volta ma non sarà piena di questi oggetti la prima volta avrà un altro oggetto molto particolare che vedremo in futuro quindi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto e vi sia interessato in questo caso vi chiedo di lasciare like e di iscrivervi nel caso non lo siate ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video detto ciò da roide tutto ciao a tutti grazie a tutti